Cibiana Cibiana è un piccolo gioiello, incastonato tra le dolomiti bellunesi, di alcune centinaia di abitanti, a 985 metri sul livello del mare. È una realtà famosa per i suoi murales, attualmente 61, ma anche da sempre per la produzione di chiavi. Cibiana di Cadore è una pietra preziosa, che ci riporta ai valori duraturi, come le sue montagne, come i larici dei suoi boschi. Non è una testimonianza di un passato definitivamente tramontato, poiché dimostra di essere una realtà viva, che ha ancora molto da offrire. Cibiana di Cadore è un passato, A presto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.